Grande fratello Daniele Martani sulla vittoria di Perla, ha vinto l'ignoranza, il trash la caffolaggine. E veniamo adesso a parlarvi di quanto accaduto ieri sera al Grande fratello dove ha vinto l'edizione del programma Perla Vatiero. Una vittoria che ha fatto storcere il naso a parecchie fans della Beatrice Luzzi che stanno contestando il risultato del televoto stesso. Ma soprattutto quello che ha fatto storcere la bocca è stato più che altro il fatto che a vincere sia stata Perla Vatiero che durante il programma si era resa protagonista di alcuni episodi, discutibili proprio nei confronti di Beatrice Luzzi. In rete sono veramente molti i commenti che vanno in questo senso, ma quello che è più in auge è quello di Daniela Martani, che di sicuro non le ha mandate a ridire e sicuramente esprimendo tutta la sua contrarietà nella vittoria proprio di Perla Vatiero. Infatti dice la stessa Daniela Martani in un post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram subito dopo la vittoria di Perla Vatiero. Ha vinto l'ignoranza, il trash e la cafonaggine, un paese che mette sul podio una cacciottara che neanche sa coniugare i verbi è un paese culturalmente morto. Grazie. 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 Grazie.